Nel 1996 la squadra di calcio maschile nigeriana vinse l'oro alle Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti. Al termine della finale, folle giubilanti si riversarono per le strade di ogni città e paese. Questa nazione di all'epoca 110 milioni di persone si trasformò immediatamente in un'enorme festa alle due del mattino. La gioia, la felicità e l'eccitazione erano contagiose e le persone mangiavano, cantavano e ballavano. In quel momento la Nigeria era unita e ogni nigeriano era contento di essere nigeriano. Prima delle Olimpiadi questa squadra dovette affrontare molte difficoltà. All'inizio del torneo venne loro meno il sostegno finanziario. La squadra gareggiò senza uniformi, luoghi per allenarsi, cibo o servizi di lavanderia appropriati. A un certo punto fu a un passo dall'essere eliminata dal torneo, ma la squadra nigeriana trionfò inaspettatamente contro ogni pronostico. Quel momento cruciale cambiò il modo in cui i suoi componenti vedevano se stessi. Con questa ritrovata fiducia, con il duro lavoro individuale e di squadra e con una determinazione tenace, ignorarono insieme le molte distrazioni e si concentrarono sulla vittoria. Questa concentrazione è valsa loro la medaglia d'oro e i nigeriani li hanno battezzati Dream Team. Il Dream Team delle Olimpiadi del 1996 continua a essere citato nello sport nigeriano. Dopo aver imparato a ignorare le molte distrazioni che le si presentavano ed essersi concentrata sul suo obiettivo, la squadra di calcio è riuscita a fare meglio di quanto pensava fosse possibile e ha provato una grande gioia, come anche il resto di noi in Nigeria. In modo simile, quando ignoriamo le distrazioni del mondo e ci concentriamo su Cristo e sul suo Vangelo, abbiamo la garanzia di un successo che va oltre ogni nostra immaginazione e possiamo provare grande gioia. Il Presidente Russell M. Nelson ha insegnato quando incentriamo la nostra vita su Gesù Cristo e sul suo Vangelo, possiamo provare gioia a prescindere da ciò che sta accadendo o non accadendo in essa. Prego che lo Spirito Santo aiuti ciascuno di noi a dare ascolto all'invito del Presidente Nelson a incentrare la nostra vita su Gesù Cristo e sul suo Vangelo, in modo da poter provare gioia in Cristo a prescindere da ciò che sta accadendo o non accadendo in essa. Diversi resoconti nel Libro di Mormon descrivono coloro che hanno trasformato la propria vita concentrandosi su Gesù Cristo e sul suo Vangelo. Basta pensare ad Alma il giovane. Si era ribellato e aveva combattuto contro la Chiesa. Suo padre Alma pregava e digiunava. Apparve un angelo che chiamò Alma il giovane al pentimento. In quel momento Alma cominciò a soffrire le pene di un'anima dannata. Nelle ore buie ricordò che suo padre aveva insegnato che Cristo sarebbe venuto per espiare i peccati dal mondo, mentre la sua mente si soffermava, si concentrava su questo pensiero. Implorò Dio per avere misericordia. Il risultato fu la gioia, una gioia che gli definì intensa. Misericordia e gioia giunsero ad Alma perché lui e suo padre si erano concentrati sul Salvatore. Ai genitori che hanno figli e che si sono allontanati, dico, rincuoratevi. Invece di domandarvi perché un angelo non venga ad aiutare vostro figlio a pentirsi, sappiate che il Signore ha messo un angelo terreno sul suo cammino. Il vescovo, un altro dirigente della Chiesa, un fratello o una sorella amministrante. Se continuerete a digiunare, se non fisserete una tempistica o una scadenza per Dio, e se confiderete che Egli sta stendendo la sua mano per aiutare, allora, prima o poi, vi accorgerete che Dio toccherà il cuore di vostro figlio quando questi sceglierà di ascoltare. E' così perché Cristo è gioia. Cristo è speranza. Egli è la promessa di futuri beni. Affidate dunque a Gesù Cristo, vostro figlio, perché Lui è la forza di ogni genitore e di ogni figlio. Una volta provata la gioia in Cristo, Alma il giovane visse con quella gioia. E come fece a mantenere una tale gioia anche nelle difficoltà e nelle prove? Egli dichiara, da quel momento fino ad ora, ho lavorato senza posa per portare le anime al pentimento, per portarle a gustare l'immensa gioia che io avevo gustato. E il Signore mi dà una gioia immensa nel frutto delle mie fatiche e sono stato sostenuto in prove e difficoltà di ogni genere. Per Alma, la gioia in Cristo iniziò quando esercitò la fede in Lui e implorò di ottenere misericordia. Poi esercitò la fede in Cristo, lavorando per aiutare gli altri a gustare la stessa gioia. Quando questo impegno continuò, produsse una grande gioia in Alma e anche in mezzo a prove e problemi di ogni genere. Vedete, il Signore ama l'impegno e l'impegno incentrato su di Lui porta benedizioni. Persino le prove dure possono essere sopraffatte dalla gioia di Cristo. Un altro gruppo nel Libro di Mormon che ha fatto di Gesù Cristo e del suo Vangelo il fulcro della propria vita e che ha trovato gioia sono coloro che fondarono la città di Elam, un luogo in cui avrebbero potuto crescere i loro figli e godere della libertà di professare la loro religione. Queste persone rette vivevano vite esemplari, ma furono ridotte in schiavitù da un gruppo di saccheggiatori e private del diritto umano fondamentale di professare la propria religione. A volte alle brave persone accadono cose brutte. Il Signore ritiene opportuno castigare il suo popolo. Sì, Egli mette alla prova la Sua pazienza e la Sua fede. Non di meno, chiunque ripone la Sua fiducia in Lui sarà elevato all'ultimo giorno. Sì, e così fu per questo popolo. Come fecero queste persone a resistere alle prove e alle sofferenze? Concentrandosi su Cristo e sul suo Vangelo. Non erano i loro problemi a definirli. Piuttosto, ognuno di loro si rivolgeva a Dio, probabilmente definendo se stesso come figlio di Dio, figlio dell'alleanza e discepolo di Gesù Cristo. Ricordando chi erano e invocando Dio, ricevettero pace, forza e infine gioia in Cristo. Alma e il suo popolo aprirono a Dio il cuore ed Egli conobbe i pensieri del loro cuore. E avvenne che la voce del Signore venne ad essi nelle loro afflizioni, dicendo, «Alzate il capo e state di buon animo, poiché io conosco l'alleanza che avete fatto con me, e io farò alleanza con il mio popolo e lo libererò dalla schiavitù». In risposta, il Signore alleviò i fardelli posti sulle loro spalle. Sì, il Signore li fortificò così che potessero portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Notate che questi santi lasciarono che i loro problemi, le loro sofferenze e le loro prove, fossero sopraffatti dalla gioia di Cristo. Poi, a tempo debito, Egli mostrò ad Alma il modo per fuggire e Alma, un profeta di Dio, li condusse al sicuro. Se ci concentriamo su Cristo e seguiamo il suo profeta, anche noi saremo condotti a Cristo e alla gioia del suo Vangelo. Il Presidente Nelson ha insegnato «La gioia è potente e concentrarsi sulla gioia porta il potere di Dio nella nostra vita». Come in tutte le cose, Gesù Cristo è il nostro esempio più grande, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. Mia madre è morta di recente. È stato uno shock. Amo mia madre e non avevo previsto di perderla così giovane. Ma attraverso la sua scomparsa, io e la mia famiglia abbiamo provato tristezza e gioia. Lo so, grazie a Lui, che non è morta. Lei vive. E so che grazie a Cristo e alle chiavi del sacerdozio restaurate tramite il profeta Joseph Smith, un giorno sarò di nuovo con lei. Il dolore per la perdita di mia madre è stato sopraffatto dalla gioia di Cristo. Sto imparando che pensare celeste e far prevalere Dio significano anche concentrarsi sulla gioia disponibile in Cristo. Con amore Egli ci invita. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.